Abbiamo piantato circa 600 alberi in 10 anni a Cassano Magnago, ci tengo al verde della mia città, ha sottolineato l'assessore Massimo Zaupa che all'indomani del Consiglio Comunale afferma di essere rimasto deluso dall'attacco del PD, cominciato con un'interrogazione sulla salute dei tigli di Viale Rimembranze per poi tornare a chiedere di nuovo spiegazioni sull'abbattimento degli alberi in piazza 25 Aprile che tanto aveva acceso gli animi in piena estate. Quella battuta era un'età completamente diversa rispetto a quelle rimaste in piedi che rimarranno in piedi, avevano dei problemi perché l'agronomo ha rilevato che avevano dei problemi soprattutto di carie, di problemi di funghi che avrebbero potuto creare delle problematiche alle persone che ci passavano sotto. La relazione agronomica che è stata fatta sul piazza 25 Aprile è dello stesso studio che ha fatto la relazione al borgorino e là sono state tagliate delle piante, nessuno ha detto niente, non hanno avuto niente da ridire. Come sanno gli alberi di Viale delle Rimembranze? Dobbiamo prima di tutto ricordarci che quest'anno compiono 100 anni, sono state abbattute 6 piante, ne sono state ripiantumate 12 a coprire anche delle fallanze che nessuno si era accorto prima che mancavano all'interno del viale del cimitero. L'obiettivo a cui sta lavorando l'amministrazione conclude Zaupa è un piano manutentivo in tutta la città per un monitoraggio costante con il supporto di un esperto. Una pianta che cade fa più rumore di una foresta che cresce, si dice. Grazie. 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 Grazie.